Il cambiamento climatico ha tanti costi in bilancio e non si conoscono sempre i piani di ammortamento, soprattutto perché la natura decide per sé. Dalla mancanza di acqua, la devastazione di colture per i temporali, il passo è stato breve. L'acqua ha letteralmente seppellito interi raccolti. La stima di Col di Retti Abruzzo di quasi due mesi fa era di circa 180 milioni di euro. Numeri che hanno descritto bene una campagna allo stremo con cali produttivi importanti dovuti alla siccità. Termine abbandonato, dimenticato, rimosso in una sola parola, desueto. Ora c'è un'altra calamità, l'alluvione. Certo, rispetto all'Emilia Romagna il bilancio non è poi così drammatico. Nella nostra regione stiamo avendo dei danni. Danni purtroppo che ora come ora sono esplicitamente nell'ambito del fucino, di cui ci sono tutte le culture, patate, carote, finocchi che sono sommersi d'acqua e quindi stanno morendo per asfissia, ma soprattutto le patate appena seminate ora come ora dovranno per forza di cosa essere risseminate. Quindi abbiamo doppi costi di lavorazione e sicuramente un prodotto che data la stagione potrebbe essere anche, diciamo così, essere precario e non avere il prodotto pronto per la raccolta quando sarà il suo tempo. Pur senza essere esperti, si sa che l'acqua all'umido porta con sé funghi, per esempio, no? Assolutamente sì e difatti cominciamo ad avere danni nei vigneti ma danni dovuti alla pronospera, quindi alle malattie fungine in quanto finché sta piovendo i nostri produttori non possono entrare a fare i trattamenti antiparassitari che necessita la pronospera in questo ambiente. Dopodiché abbiamo anche foraggi allettati, foraggi sommersi d'acqua e naturalmente anche il grano e oto che assolutamente ora come ora la spiga essendo piena d'acqua si piega e quindi sono tutti allettati per terra. In questa fase è difficile fare una stima dei danni ma gli eventuali danni appunto, chi li paga? Ecco, eventualmente danni da strutture sicuramente stiamo già in accordo con la regione che chiediamo calamità naturale purtroppo per le culture che sono assicurabili speriamo che i produttori siano assicurati e saranno rimborsati dall'assicurazione assicurazione che per il 40% lo Stato rimborsa e c'è un contributo del 40% quindi dallo Stato per chi non è assicurato purtroppo sulle culture abbiamo qualche timore che nessuno potrà rimborsarli.